Finora era nota solo una bozza. Ora è ufficiale la relazione sulla morte di Liliana Resinovic eredata dal medico legale Fulvio Costantinides e dal radiologo Fabio Cavalli. La consulenza, che riassume gli esiti dell'autopsia, dell'attacca e del test tossicologico sul cadavere della donna, è infatti depositata e dunque pubblica. I contenuti del documento, come riferisce oggi il piccolo, non dissolvono i dubbi sulla fine della pensionata triestina scomparsa da casa il 14 dicembre dell'anno scorso e ritrovata morta nel parco di San Giovanni il 5 gennaio. Anzi, è proprio la consulenza definitiva ad alimentare gli interrogativi in un'indagine che, fino ai nuovi elementi emersi, sembrava avviata all'archiviazione per suicidio. L'analisi dei periti nominati dalla procura suggerisce una morte asfittica tipo spazio confinato, ovvero Liliana sarebbe morta per soffocamento causato dai sacchetti di plastica, anche se questi non erano stretti significativamente con i lacci attorno al collo. La relazione fissa il decesso a 48-60 ore circa prima del rinvenimento del corpo, non essendo presenti segni di un processo di potrefazione del cadavere, ma questo elemento contrasta con altri dati emersi dagli esami e che tenderebbero a collocare la morte il giorno stesso della scomparsa. I resti della colazione trovati nello stomaco, gli abiti puliti, gli stessi con i quali Liliana è uscita di casa, la mancanza di ricrescita pilifera. Le analisi non chiariscono neppure se le lesioni riscontrate, una tumefazione alla palpebra destra, tracce emorragiche in testa, alla narice e sulla lingua, siano da riscontrare all'azione di un'altra persona o se abbiano una causa accidentale. Entrambe le ipotesi stanno in piedi.